Operazione della Polizia Stradale di Taranto nell'ambito del fenomeno dell'abusivismo commerciale. Sono stati ispezionati due locali, entrambi ubicati nella borgata di Talzano, adibite da attività commerciali di carrozzeria e autofficina, che sarebbero risultate del tutto abusive. Rilevate violazioni di carattere amministrativo legate alla gestione dell'attività commerciale e artigianale. Stando a quanto accertato dai poliziotti, i titolari delle attività ritenute illecite avrebbero esercitato abusivamente l'attività di carrozzeria e di autofficina senza la prescritta denuncia di inizio attività alla Camera di Commercio di Taranto. Sequestrate attrezzature e strumentazioni utilizzate, in particolare 40 latte di materiale da carrozzerie, smerigliatrici e compressori, una saldatrice, un banco da lavoro con annessi attrezzi per officina meccanica, un generatore di corrente, saldatrici e ricambi di auto usati. Le sanzioni amministrative combinate ai due ammontano ad un valore complessivo di circa 15 mila euro. Al momento del sequestro sono stati apposti i sigilli sulla strumentazione sottoposta a sequestro amministrativo. I serrati controlli pongono in risalto il continuo monitoraggio che la Polizia stradale sta attuando nei confronti del settore degli autoriparatori. I controlli proseguiranno su tutto il territorio tarantino e saranno finalizzati ad individuare l'eventuale presenza di attività irregolari che danneggiano gli artigiani che operano nel rispetto della normativa vigente. Grazie a tutti.